Formazione e crescita è uno spazio di benessere, impulsi, ispirazione e sostegno, soprattutto per riconoscersi e riconoscere i propri veri valori, talenti e potenzialità. È un contenitore di crescita personale, uno spazio in cui è possibile il cambiamento di prospettiva sulle nostre limitazioni, sui nostri cosiddetti problemi, su difficoltà ad avere relazioni armoniose, virtuose. È un invito a riprenderci in mano le nostre vite, a sentire di avere la responsabilità di noi stessi con leggerezza, serenità, divertimento. Come sarebbe per te avere la libertà di poter scegliere cosa pensare, cosa credere, come reagire e poi affidarti a questi nuovi programmi, questi nuovi principi di vita, perché questo si possa trasformare in nuova energia a disposizione per la tua vita, la tua professione, i tuoi interessi, la famiglia e la tua piena realizzazione. Questa è consapevolezza in divenire.